Salve a tutti ragazzi, da questo lato come avrete ben capito questo è un video a 360 gradi se lo stai vedendo completamente distorto vuol dire che non è il browser adatto per poterlo vedere devi utilizzare o Firefox o Google Chrome, forse è meglio Google Chrome questa è la seconda parte della recensione del video sull'LG Cam a 360 gradi ed infatti siamo in un mondo a 360 gradi infatti se sei da smartphone puoi utilizzare il tuo telefonino per muoverti in giro e guardare quello che c'è attorno a me quindi vedrai un po' di disordine della mia auto sono stato fuori un weekend ed ho portato con me l'LG 360 Cam per divertirmi un pochino e per realizzare qualche immagine grazie a tutti grazie a tutti e questo è tutto spero che questo mini video vi sia piaciuto se così è stato potete condividerlo sui social network, su Facebook, su Twitter vi consiglio di iscrivervi al canale per tanti nuovi video che arriveranno sia in questo periodo estivo sia da settembre in poi noi ci vediamo ad un prossimo video forse a 360 gradi grazie a tutti